Ecco, questo è il nostro prodotto, si chiama Nodless, che significa senza nodi. Si tratta di un braccialetto portacuffie che permette di avere gli auricolari sempre a portata di mano e senza nodi. Il nostro prodotto può essere personalizzato e di differenti materiali. Questo è il nostro prototipo realizzato in pelle e adesso vi mostro l'utilizzo. Qui potete vedere, gli auricolari non sono nodati. I nostri potenziali clienti sono tutti colori che utilizzano le cuffie per ascoltare musica o altro. I nostri principali concorrenti sono Lupit, Marma e Namark. Subito! Quando vuoi... A tutta musica! Io sono Lorenzo. Camilla. Lorenzo. Iva. Alina.